D'accordo, buongiorno a tutti, io sono il presidente dell'associazione ambientalista delle sentinelle dell'energia di Pesaro che tra le varie cose si occupa di promozione della cucina solare. Che cos'è la cucina solare? Fondamentalmente è una pratica di cucina che utilizza dei forni, delle cucine che cuociono grazie ai raggi diretti del sole quindi senza l'utilizzo dell'elettricità o del gas. E' possibile cucinare le stesse cose che si cucinano con la cucina tradizionale a seconda del modello di forno o di cucina solare che si utilizza. Infatti esistono i forni a scatola, i forni a pannello e le cucine a parabola e queste ultime possono essere le più potenti e permettono anche di friggere. I forni a scatola permettono di cucinare con i forni domestici e i forni a pannello sono intermedi tra i due e permettono in genere con costi più bassi di cucinare delle pietanze semplici come il riso, la pasta, le sere e le verdure e poi cimentandosi si possono trovare svariate ricette. Noi dal 2015 che stiamo costruendo, autocostruendo dei modelli di forni solari e stiamo documentando tutto nel nostro sito internet www.grupposelene.net e adesso stiamo preparando un nuovo sito più bello anche a punto di vista grafico che al momento ha l'indirizzo www.grupposelene.net dove carichiamo anche i video delle ricette, le nostre attività con le scuole, le esperienze all'aperto come quella che stiamo preparando adesso in cui stiamo cucinando del riso, anche con modelli di forni economici fatti con cartoncino, scotch, alluminio da cucina e dei barattoli della marmellata per cuocere il riso quindi spendendo nulla praticamente e anche perché è un aspetto che secondo me è veramente importante quando si vuole apportare dei benefici ambientali con la cucina solare è quello di avere attenzione al discorso del NeroEI cioè il ritorno di energia per tutta l'energia che abbiamo speso per il prodotto che utilizziamo ad esempio quando si parla di produzione di energia rinnovabile ad esempio fotovoltaico si tiene conto che per produrre il pannello abbiamo consumato dell'energia e quindi prima che abbiamo un impatto positivo sull'ambiente dobbiamo recuperare quell'energia spesa e un discorso analogo secondo me deve valere anche per la cucina solare e quindi anche qui utilizzare materiali di recupero piuttosto che materiali a basso impatto ambientale diventa fondamentale e altro aspetto che ci interessa molto è quello di valutare le potenzialità di utilizzo della cucina solare in contesti di emergenza o in ambito umanitario ad esempio nei campi rifugiati anche in Africa o nel Medio Oriente e quindi abbiamo anche dedicato un approfondimento sul tema l'anno scorso e vedendo quello che si può fare grazie ai forni solari ad esempio abbiamo studiato l'esperienza della Jewish World Watch nei campi rifugiati del Ciado Orientale e a beneficio di migliaia di rifugiati sudanesi e quindi insomma stiamo facendo piccoli passi avanti piano piano e ci piacerebbe anche avere dei modelli ben caratterizzati in modo da spiegare bene alle persone come poterli utilizzare semplicemente se volete dopo venire ad assaggiare il riso è quasi pronto grazie grazie mille mi sembra molto interessante io dopo passerò a sentire come ha riso io l'avevo già visto in queste cucine solari diciamo che assomigliano alle parabole in Tibet dove la quota è molto alta perché l'acqua con la pressione più bassa bolle prima e quindi sono molto utilizzate esatto poi il sole è più vicino tra virgolette quindi